Si è conclusa l'attività investigativa nei confronti di due minorenni di Caltanissetta che avrebbero sequestrato e torturato un tredicenne all'interno di un garage per un'ora e mezza. Il procuratore capo per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, ha chiuso le indagini sui due quindicenne accusati a vario titolo di tortura, sequestro di persone, minacce, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Le vittime in tempi diversi sarebbero state quattro ragazzini, pure loro nisseni, che sarebbero stati malmenati sempre dai due. L'episodio più violento risale alla mattina del 7 settembre dello scorso anno, quando un tredicenne sarebbe stato portato all'interno di un garage con l'inganno. Una volta lì dentro gli avrebbero legato mani e piedi con nastro adesivo da imballaggio e lo avrebbero picchiato per circa 90 minuti per poi minacciarlo con l'uso di un coltello. Inoltre gli avrebbero versato addosso un secchio pieno di acqua e di olio per motore minacciando di volergli dare fuoco con un accendino. Il tredicenne sarebbe stato rilasciato dopo essere stato minacciato di morte se avesse rivelato quello che era accaduto. Da questo episodio le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare altre storie di violenza ai danni di altri tre minorenni di Caltanissetta accadute nei mesi precedenti, sempre con lo stesso modus operandi caratterizzato da azioni e aggressioni violente. Sono tutte vicende al centro dell'attività di indagine conclusa dalla procura per i minorenni di Caltanissetta.